Intanto siamo all'inizio dell'iter parlamentare, quindi avremo tutto il tempo per discuterne in Parlamento e per vedere se ci sono ulteriori aggiustamenti. Io credo però che ci sia un punto fermo per il Partito Democratico. Vogliamo una legge elettorale che garantisca due poli, due poli per garantire poi la governabilità al Paese, che è il problema essenziale. Non esiste una legge elettorale perfetta per andare in Parlamento. Il primo punto è sempre quello di ottenere i voti dei cittadini. Quindi cerchiamo di fare una legge elettorale che consenta di dare finalmente un governo stabile a questo Paese.